Dottor Brunelli, quanto conta essere esperti di regolamentazione per un professionista del settore tax? Diciamo che la regolamentazione del settore finanziario è una conoscenza, un presupposto che un professionista tax deve, non dico conoscere da specialista, ma deve comunque dominare. Perché per poter fare valutazioni dal punto di vista fiscale di un'operazione di fundraising, piuttosto che di investimento da parte di un fondo, piuttosto che di una qualche altra fattispecie, è necessario conoscere il terreno su cui ci si muove per poi applicare le norme fiscali di conseguenza. Grazie dottore.